Con questa media di 30.000 vaccini al giorno, significa 900.000 in un mese, oggi siamo a 2.400.000 dosi somministrate, significa poter raggiungere quell'obiettivo. E lo dobbiamo, perché oggi vediamo che c'è maggiore distrazione, ma poi quando il Covid ritrova delle condizioni stagionali più favorevoli, la temperatura che diminuisce, l'autunno che porta umidità, non è mica detto che anche con il vaccino si sia bloccato tutto. Quindi in questi tre mesi, giugno, luglio, agosto e naturalmente settembre, che dobbiamo lavorare per portare al più alto livello la vaccinazione di massa.